Incroce i carabinieri e inchioda la macchina, salvo poi ripartire a passo lento. Probabilmente i 5,3 grammi di cocaina e i quasi 2 grammi di ashes che aveva con sé lo avevano fatto giustamente innervosire, ma il suo comportamento non è sfuggito ai militari che lo hanno fermato e perquisito. Per il senegalese di Rosà, pizzicato dai carabinieri, è scattato quindi l'arresto. La droga è stata sequestrata.